Ciao, oggi siamo sulle Torricelle dove c'è il parcheggio dell'Agriturismo San Mattia e andremo a fare la discesa della Baldonega. Adesso qui facciamo un trasferimento e ci avviciniamo alla nostra discesa. Grazie a tutti. That's it. Ciao. Anche questa è una zona abbastanza frequentata, c'è ciclisti che pedoni, quindi stiamo sempre attenti, dietro le curve, sui rettilinei. Siamo al punto. Trovamo a guardare un attimo. L'uscellito, caverna, un ficello di ligno, una foto e via. E qui, a destra, cominciamo a scendere. Sì, passate voi. Sì, grazie a tutti. No, non c'è problema. Buonasera. Giustamente. Qua ho avuto a sentire un po' esposto in contropendenza. 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 Ed eccoci qui, Baldonega. Discesa molto semplice. Ciao!